Ci sentiamo in qualche modo di poter tranquillizzare in parte anche i Valtrinese e Valchiavennaschi perché sembra che questi controlli sui tamponi siano risultati tutti negativi in queste ultime ore. Sì, il risultato che ci è stato comunicato ieri è un risultato molto soddisfacente perché i nove campioni sono risultati tutti negativi e questo ci fa ben sperare anche rispetto alle strategie che saranno individuate questa mattina nell'ambito del tavolo tecnico che si riunisce in prefettura alle ore 12 e deve programmare le prossime iniziative. Naturalmente noi verremo nel corso della giornata, seguiremo questo tavolo molto importante. Noi abbiamo notato veramente un gran coinvolgimento da parte dei sindaci, delle istituzioni. Insomma, diciamo che la provincia di Sondro è sul pezzo per quanto riguarda questa emergenza coronavirus. Sì, anche io ho notato un affiatamento eccezionale, un attaccamento straordinario al proprio lavoro, un senso del dovere formidabile. Ne sono fiero e colgo l'occasione per fare i complimenti a tutti gli operatori, coloro che lavorano nell'ambito sanitario, coloro che lavorano nell'ambito del soccorso, coloro che lavorano nell'ambito dell'ordine pubblico. Tutti hanno dato un grande aiuto in termini di energie, di idee e di risorse. Naturalmente noi ringraziamo anche il signor Prefetto per la grande disponibilità e ci vedremo ancora nel corso della giornata perché, come detto, trarremo aggiornato minuto per minuto su questa situazione, ma che naturalmente tutti ci auguriamo possa evolversi per il meglio. Sì, allora faremo il punto più tardi. Grazie. Grazie. Grazie.